Io avevo sette anni nel 92, per cui facevo la seconda elementare e al massimo guardavo la sirenetta della Disney, si può dire Disney su Sky. Per me il 1992, personalmente, da siciliana è l'anno in cui a mio padre cade il telecomando dalla mano e c'è la strage di Capaci. Per noi siciliani è stato un momento difficilissimo perché ci siamo sentiti nudi. Come sentirsi nudi davanti al mondo? Davvero qui da noi è successo questo orrore? Breck diceva che fortunato è il paese che non ha bisogno di eroi e noi in quel momento avevamo perso i nostri eroi. Anche se ero molto piccola, mi ricordo quella giornata come se fosse adesso, sempre. Anche se ero molto piccola, mi ricordo quella giornata come se fosse adesso, sempre. Allora Grazie a tutti.